Amici www.91calcio.com Che dire, maglie incredibili Vi faccio una carrellata L'Inter, maglia da trasferta Napoli, guardate, guardate i dettagli Roma, guardate C'è il Bayern, grande Ma c'è il Manchester, attenzione, Manchester Borussia Dortmund, Barcellona Maglie di tutte le più grandi squadre Del campionato italiano e dei campionati europei Qualità eccezionale www.91calcio.com Link in descrizione Ci sono le offerte speciali Di cui potete approfittare al più presto E mi raccomando, non perdete Questa occasione Maglie incredibile Di tutte le squadre di Serie A italiane E di tutte le squadre Dei più belli campionati europei Incredibile Ma i dettagli Fabolosi Grandi Ciao www.91calcio.com Buongiorno amici Vorrei fare un breve video sportivo di calcio Sapete la mia passione per il calcio E un commento a quello che sta accadendo in Serie A Quello che sta accadendo in Serie A quest'anno È un qualcosa di sportivamente molto bello Perché se vi ricordate negli anni scorsi C'era stato il dominio della Juventus Che aveva vinto degli scudetti Con ampio margine Quindi diciamo il campionato non era stato Molto interessante Almeno Diciamo per la lotta scudetto Non c'era stato Alcun tipo di interesse Poi Negli ultimi anni La Juve non è che sta andando a benissimo Quest'anno sta andando a molto Anche male Per cui Ieri cosa ci ha detto il campionato Ci ha detto che L'Inter ha stravinto a Roma Il Napoli è stato battuto in casa Dall'Atalanta E se vedete la classifica C'è un Milan al primo posto Poi ci sta L'Inter A un punto Poi sta subito dietro il Napoli E' subito dietro l'Atalanta Poi ci sono Nove punti di differenza Dal quinto posto E ciò significa che Lo scudetto quest'anno E' una lotta a quattro C'è una lotta fra Milan Inter Napoli E Atalanta Questo dice la classifica Questo dice il campionato Ora Analizzando A parte la Juve Ve l'ho detto che quest'anno Comunque è fuori dalla lotta a scudetto Potrebbe riprendersi E magari cercare Di fare Il quinto Il quarto posto Agganciare un'ipotetica Zona Champion Questo si Ma Ormai con tanti punti Di stacco Non può lottare più Per lo scudetto Ci sta un Milan Che è in discreta salute Anche se alterna Delle ottime prestazioni Con altre Minori C'è un Napoli Che Onestamente Nelle ultime partite Anche per difficoltà Di formazione Ha subito Un po' Un contraccolpo Forse Psicologico Specie dopo La sconfitta Con l'Inter E Poi Anche col sessuolo Non è che Ha giocato benissimo Ieri ha giocato Discretamente Bene Però Però Certo Un appannamento Ci sta Mentre invece L'Atalanta Ecco L'Atalanta È Una di quelle squadre Che Negli ultimi anni Ha avuto una crescita Costante Il suo gioco Ormai È un gioco Fatto A memoria Ed è Molto Un gioco Molto fresco Spumeggiante Ha Dei giocatori Anche molto Tecnici E vi devo dire La verità L'Atalanta Potrebbe essere La sorpresa Di Di questa stagione Poi c'è l'Inter Sapete Alla quale Sono legato Da motivi sentimentali Diciamo Di tipo Calcistico E devo dire Che mi sta sorprendendo Veramente Inzaghi Mi sta sorprendendo Perché Nonostante Che la squadra All'inizio Si dicesse Fosse ridimensionata Per essere La vastenza Di Hakimi Di Lukaku Invece I nuovi Ci sono Inseriti Bene Poi Inzaghi Ha dato Un gioco Un gioco Molto Più ispirato Alla fantasia Insomma Un bel gioco Veloce Tecnico Di agilità E Devo dire Che Almeno Nelle ultime Giornate Veramente L'Inter Sta dimostrando Tutta la sua Forza Quindi È una lotta Sarà una lotta Fino Penso All'ultimo E Sono queste Quattro squadre Che Si contendranno La vittoria Ed è bello Vedete Ed è bello Per il calcio Ed è bello Per lo sport In generale Perché Quando c'è Il dominio Di una sola squadra Diciamo È bello Dell'attivamento È bello Per i tifosi Di quella squadra Ma quando c'è Diciamo Una bella rivalità Una sana rivalità Per dire meglio Tra squadre Divise Da pochi punti È più interessante Un po' Per tutti Quindi Io ovviamente Credo Mi auguro Che La possa spuntare L'Inter Ma Devo dire La verità Sono tutte e quattro squadre Veramente Che esprimono Un bel calcio Questa è la mia La mia considerazione Di fare questo video A freddo Lo volevo fare ieri Avrei voluto farlo ieri Dopo Napoli e Atalanta Però non c'ero Non c'ero Non c'ero Non ho visto solo Gli highlights Stavo fuori Diciamo Una serata Per cui Non ho potuto farlo Però Adesso ho fatto Questo video Di commento Per gli amici Che seguono Anche il calcio Quindi Grazie sempre Vi auguro Una buona giornata Buona Domenica Anche se qui piove Ma ormai Ci siamo Insomma La stagione invernale Si può dire che Ormai iniziate Quindi E quindi va bene così Un abbraccio a tutti Quanti voi Grazie Grazie